La vostra voce non deve assomigliare a nessun'altra voce. Meglio ancora, come la vostra voce non esiste un'altra uguale. Questa è una consapevolezza della quale dovete essere carichi. Non esiste una voce uguale a un'altra. E più siete consapevoli di questo, più potrete proporre qualcosa di originale. Spesso noi ci innamoriamo di voci che non sono corrette, non lavorano correttamente. Però, cosa vuol dire? Sono originali, uniche, ci entrano nel cuore, c'è emozione. Sono Vittorio Matteucci e vi aspetto su Master of Performing Arts. Grazie a tutti.